Ci siamo resi conto che la rivoluzione che proclamava Crocetta in realtà era una contro-rivoluzione, un tornare indietro, un tornare nel passato remoto. Tant'è vero che i lavoratori forestali quest'anno, nella migliore delle ipotesi, lavoreranno 78, 101 e 151. Noi vogliamo che questi lavoratori non solo lavorino le stesse giornate del 2011, ma rispetto a questi lavoratori venga immediatamente accelerato l'iter procedurale della nostra proposta di legge di iniziativa popolare sulla stabilizzazione che li vede tutti impegnati, 365 giorni l'anno. Ma quali sono le vostre richieste? Poi il prossimo mese, essendo che c'è il risito delle 24 milioni di euro, Si vogliono fare 404 euro e a noi non ci conviene perché siamo lavoratori a tutti gli effetti. Quali sono le vostre richieste? Siete in piazza per chiedere al governo regionale cosa? La stabilizzazione. Quindi stabilizzazione e retribuzione adeguata? Sì, definitiva. E attualmente lavorate? Si lavoriamo con 700 euro a mese. Quanto? 700 euro a mese. Ma il governo Crocetta dice che comunque gli stipendi dovrebbero essere garantiti, almeno, nella finanziaria. Da quando? Lo sappiamo. Dopo dicembre che nasce? Dopo dicembre. Dopo dicembre siamo poi, non si sa, dal primo mangentoio. Non vogliamo sussidio, vogliamo il lavoro e dignità perché non abbiamo più dopo 13 anni ricominciare da capo questa vita. Non si può.